Musica Buonasera e bentrovati con una nuova edizione del Tg Alto Tevere. Questa mattina Anas ha diramato una nota nella quale fa il punto sulla situazione dei cantieri lungo la E45. Annunciate nuove chiusure e qualche riapertura dopo mesi di disagi per i viaggiatori. Disagi destinati ancora a durare fino a dicembre. Cantieri condizionati anche dal maltempo delle scorse settimane. Sentiamo il servizio di Cristina Crisci. Anas ha diramato in queste ore un documento nel quale viene fatto il punto della situazione in relazione ai cantieri che insistono nel tratto dell'Alto Tevere tra città di Castello e Montone, anche alla luce delle condizioni meteo sfavorevoli che hanno caratterizzato i mesi di settembre e ottobre e che a loro volta hanno inciso sul rallentamento dei cantieri, viene precisato in questa nota. Intanto, sabato prossimo 9 di novembre, riapre in ingresso lo svincolo di città di Castello Sud in direzione Cesena. Dalla prossima settimana, precisamente l'11 di novembre e fino al 20 di dicembre, è stata annunciata la chiusura al transito della rampa di entrata in direzione Roma dello svincolo di città di Castello a Sud. Questo per permettere il completamento dei lavori di ripristino del cavalcavia. Ancora si inghiozzi le uscite di promano. Per giovedì, dopodomani, 7 novembre, sarà riaperta la rampa in uscita in carreggiata nord, mentre è prevista solo per i primi giorni di dicembre la riapertura dello svincolo in entrata, sempre di promano, in direzione Cesena. E restando in tema di viabilità, nella giornata di domani, mercoledì 6 novembre, la strada statale 318 di Valfabbrica, nella direttrice Perugia-Ancona, resterà temporaneamente chiusa al traffico dalle ore 9 alle ore 17, nel tratto compreso tra Valfabbrica e Casa Castalda. Questo per consentire l'esecuzione di alcune attività di cantiere nell'ambito dei lavori in corso per l'ampiamento a quattro corsie. Il traffico, dunque, sarà deviato sul vecchio tracciato della statale, con uscita obbligatoria allo svincolo di Valfabbrica e rientro allo svincolo di Casa Castalda per il traffico in direzione Ancona, viceversa per il traffico in direzione Perugia. Andiamo ora a Pietralunga, dove sono tanti i furti messi in atto. Gli abitanti sono spaventati e, oltre al gruppo WhatsApp, stanno organizzando anche degli incontri in presenza. A breve chiederanno un incontro con il sindaco del comune per sapere se le telecamere del paese sono funzionanti. Il servizio. Non ce la fanno più gli abitanti di Pietralunga, che stanno subendo anche fino a sette furti in sei giorni. Stando alle ricostruzioni, i ladri si sposterebbero con automobili differenti, utilizzando la strada provinciale per Cagli come via di fuga importante. I residenti si sentono sorvegliati e si sono incontrati per cercare una soluzione e raccontare quanto accaduto. Un sabato sera io e mio marito siamo usciti verso le 9 per andare in paese. Considera che noi abitiamo a Candeleto, che è a circa 3 km dal paese, e siamo stati via circa un'ora e mezzo. Quando siamo rientrati apparentemente era tutto a posto. Come abbiamo aperto la porta per entrare in casa, abbiamo visto che erano tutte le cosse per terra. Non c'era più un cassetto che era al suo posto. C'è la paura anche dei paesi qui intorno, perché questi viaggiano a Gubbio, Castello, Montone, Apecchio. Siamo tutti su una situazione un po' tragica, di aspettativa, di ansia. La sera che sono venuti da noi avevano fatto altre 3 o 4 case, ma poi la cosa si è ripetuta anche in serie successive in altre parti del paese. L'area che si respira a Pietralunga è pesante, con persone che si allertano per ogni rumore. La tua libertà viene a meno. Questa è la cosa che a me, sinceramente, dà più fastidio. Per tutelarsi, i cittadini hanno dunque attivato il gruppo WhatsApp, dove segnalano ogni movimento sospetto e stanno valutando l'ipotesi di organizzare delle ronde. All'incontro non erano presenti né l'amministrazione comunale né le forze dell'ordine e non è stato possibile chiedere chiarimenti sul funzionamento delle telecamere presenti nel paese. Ci mettiamo d'accordo tutti quanti insieme e li aspettiamo. Ecco, è l'unica cosa per poter risolvere questo problema. Parliamo ora di sanità. C'è preoccupazione in Valtiberina all'ospedale di Sansepolcro per la mancanza di figure importanti, come il personale del pronto soccorso e del medico di famiglia, che per ora è soltanto uno e sta per andare in pensione. Vediamo il servizio di Paolo Tilli. Ospedale di Sansepolcro con il vicepresidente della regione toscana, Marco Casucci, e il segretario zonale della Lega, Luca Ciavattini. Preoccupazioni per l'ospedale di Sansepolcro? Direi che la situazione per la sanità in Valtiberina è arrivata francamente al limite. E non solo per l'ospedale, direi per la sanità in generale e anche la sanità di territorio. Questo perché ancora non è stata compiuta concretamente quella autonomia, ritorno all'autonomia della zona distretta, mancano delle figure importanti che dovrebbero essere responsabili delle unità funzionali. Mancano medici di famiglia. L'ultimo allarme viene dalla Valmarecchia, tra Badia e Sestino, che c'è soltanto un medico di famiglia, sta per andare in pensione. Così come chiediamo possa essere finalmente colmato il vuoto di personale che c'è al pronto soccorso. E ricordiamoci che presso il reparto di medicina generale ci sono soltanto due medici. Una situazione difficile, difficile sotto tutti i punti di vista. Qual è la preoccupazione principale? La preoccupazione principale è che ben vengano i lavori, ben vengano i vari adeguamenti strutturali, ma la preoccupazione rimane sulla carenza di medici. Nel reparto di medicina operano in questo momento soltanto due medici su sei previsti. Nel reparto di pronto soccorso la situazione non è migliore, anzi. Da parte nostra va un applauso a tutti questi professionisti che giorno dopo giorno lavorano in condizioni difficili, costretti a fare doppi turni per garantire un servizio, che è un servizio essenziale per ogni cittadino della Valtiberina, che è il servizio sanitario. Elezioni regionali in Umbria. La corsa dei candidati per un posto in consiglio è sempre più sentita. Tra i candidati dell'Alto Tevere per il Partito Democratico a sostegno di Stefania Proietti come presidente abbiamo sentito Letizia Michelini. Sindaca di Monte Santa Maria Tiberina, consigliere provinciale, presidente Anci Umbria Protezione Civile, Letizia Michelini, candidata del PD al Consiglio regionale, lancia i punti centrali del programma. Abbiamo visto recentemente le conseguenze degli eventi meteorologici avversi in Emilia Romagna, a Valencia. Sicuramente in cima all'agenda politica della regione Umbria deve esserci la prevenzione, la pianificazione per quanto riguarda il rischio idrogeologico, perché il nostro territorio è molto fragile. Quindi dobbiamo investire nella manutenzione continua delle nostre realtà, dei nostri comuni. Dobbiamo supportare l'agricoltura, le culture tradizionali, nei territori di montagna, curando i nostri boschi, curando i nostri terreni. Aiutiamo anche a proteggere le vallate, le nostre città. Quindi sicuramente un'attenzione particolare va proprio alla protezione civile. Un euro speso in investimenti per la prevenzione sono 4 euro risparmiati per quanto riguarda i danni conseguenti a questi eventi calamitosi. L'altro obiettivo che mi sono prefissata, insieme anche con la presidente della provincia, Stefania Proietti, candidata alla presidenza della regione, è quella di avere un'attenzione, una cura particolare verso i nostri giovani, bambini e giovani, alla loro salute mentale, che come sapete al giorno d'oggi nella nostra società civile comporta sempre di più dei disordini e dei disturbi alimentari o depressivi. Quindi dobbiamo attenzionare questi ragazzi e ritenere che questo problema non è solo e solamente un problema di natura sanitaria, ma anche sociale. Quindi dobbiamo costruire una rete capillare sul territorio di servizi sociosanitari e anche con il coinvolgimento delle associazioni del terzo settore per aiutarli e anche nel lavoro, e anche nella formazione, nella scuola, nell'inserimento nelle nostre imprese, aiutare i nostri giovani a non emigrare fuori dall'Umbria. Perché questo è un altro problema che attanaia la nostra regione, che invecchia sempre di più e che non dà speranza e fiducia nel futuro ai nostri giovani. Continuiamo a parlare di elezioni regionali Umbre. Abbiamo incontrato anche Manuela Puletti, candidata al Consiglio regionale nella lista della Lega, che sostiene la riconferma di Donatella Tesei. Sentiamo. Manuela Puletti, Lega, si ricandida al Consiglio regionale dell'Umbria. Manuela, perché questa scelta e con quali proposte? È una scelta che chiaramente è stata maturata e condivisa con il partito che rappresento, che ho rappresentato in Consiglio regionale in questi anni, ma che in realtà rappresento ormai da oltre 15 anni. Sicuramente c'è la volontà di proseguire quello che è stato il lavoro fatto in questi anni. Vorrei continuare a fare quella che è la mia politica, quella politica fatta di trasparenza, quella politica fatta di un rapporto diretto con i cittadini, quella politica che a volte dice anche cose scomode, ma che in realtà sono cose vere e che vengono direttamente dalla comunità, perché è la politica al servizio della comunità e non viceversa. Concretamente alcune proposte che arriveranno nel primo Consiglio regionale, se qualora verrà eletta? In questi anni noi abbiamo supportato tantissime battaglie qui in Alto Tevere, penso ai 15 milioni di euro per quanto riguarda il vecchio ospedale di Città di Castello, per la messa in sicurezza, penso alla messa in sicurezza dell'SP100 a Citerna. Ci sono anche altrettante proposte importanti da portare avanti in sinergia con quelle che sono chiaramente le istanze dei territori. Ma sicuramente c'è una volontà principale, che è quella di far sì che l'Alto Tevere esca sicuramente dall'esilamento nel quale è stato portato anche in ambito infrastrutturale negli ultimi 50 anni, quindi investire molto sulle infrastrutture, investire molto sull'economia, investire altrettanto sul turismo, dando un apporto fondamentale più che altro con i fatti e non tanto con le parole e con le chiacchiere che sono tipiche della campagna elettorale. Colori e sapori d'autunno pervadono Montone e il borgo dell'Alta Umbria, che ha colto tantissimi visitatori nel lungo weekend della quarantesima festa del Bosco. Ci racconta tutto Alessandra Chieli. Numeri da record di visitatori per la quarantesima festa del Bosco a Montone, con circa 50 espositori oltre alle botteghe, artigiane e taverne aperte per valorizzare delle piccole produzioni autoctone e degli artigiani e dei prodotti locali, con i prodotti del Bosco e del Sottobosco. Una manifestazione che piace. Abbiamo tutte le strutture piene e ricettive, quindi vuol dire che anche quest'anno il lavoro svolto per fare un programma per il quarantesimo anno è stato importante. La caratteristica è che la nostra manifestazione non si svolge all'interno di tenso strutture, gazebi, ma è proprio all'interno del centro storico, nei fondi che i cittadini di Montone gratuitamente in questo periodo prestano al comune e quindi le botteghe vengono allestite lì. Quindi questa secondo me è la caratteristica più bella della festa, perché comunque poi Montone è il centro storico ben conservato, è una chicca da visitare. E poi anche perché si parla di bosco a 360 gradi, delle passeggiate nel bosco con la raccolta del tartufo, passeggiate a cavallo, a piedi e anche in bike quest'anno, per conoscere il nostro magnifico paesaggio e anche monumenti rurali. E poi comunque all'interno della manifestazione tanti eventi culturali, approfondimenti, presentazioni di libri, concerti, concerti itineranti, giocolieri, artisti di strada, che comunque abbelliscono e rendono viva questa manifestazione. E non c'è da sottovalutare poi il fatto che è una festa per le famiglie, perché ci sono tante attività per i bambini, per i ragazzi. Oltre 100 punti in una sola partita di basket è la storia da Guinness dei Primati di Alessandro Dolfi, detto soldino, storico cestista di Città di Castello. A distanza di quasi mezzo secolo da quell'impresa, la federazione pallacanestro gli ha attribuito un riconoscimento. Per noi Marco Polchi. 102 punti in una sola partita di basket, ed è un record. Quello registrato ufficialmente negli ultimi giorni dalla federazione italiana pallacanestro è messo a segno da un cestista, Tifernate, Alessandro Dolfi, da tutti conosciuto affettuosamente con il soprannome di Soldino, che nel 1976 ha messo a segno oltre 100 punti. Eravamo alla palestra della Dante Alighieri, è finito il primo tempo, il segnapunti venne sullo spogliatoio e ci comunicò che avevo già raggiunto i 48 punti. Anche Sussini Stefano, mio compagno di squadra, ha detto ma vogliamo battere il record de Witt Chamberlain, cestista americano, famoso in tutto il mondo. E alla fine sono due tiri liberi che poi, praticamente alla fine della partita, ero già a quota 100. E io infatti faccio il primo, poi il secondo lo tiro a sbagliare, l'ho buttato su come, però è andato dentro anche quello e l'ho fatto i 102. Si trattava di un torneo giovanile, basket e primavera, anche se era un torneo ufficiale. Come lo hai saputo? L'ho saputo che è arrivato praticamente per posta, una busta gialla, che per lì ho detto è questo che cos'è. Poi leggo il nome sulla busta, c'era Mario Aldo, Loreto Serafini. Ho detto ma questo è il mio ex allenatore. Allora apro la busta e vedo questa lettera della Federazione Italiana Pallacanestro, che praticamente rispondono a Mario Serafini dall'insistenza di ufficializzare questo regolo. Il presidente Gianni Petrucci risponde che Dolferessandro, con i suoi 102 punti, verrà ricordato sugli archivi della Federazione Italiana Pallacanestro. Magari facendo una ricerca, viene fuori che c'è anche qualcun altro che ha fatto 100 punti. perché non creare anche un club dei 100 e ritrovarci una volta ogni tanto per andare a cena insieme. Magari viene anche qualcuno dell'NBA, che dici? Magari, ma sarà difficile. E questa era l'ultima notizia. Noi vi lasciamo con gli appuntamenti informativi di Teletruria e vi auguriamo una buona serata.